Gabbia elastica con la parte alta del polmone quindi indurendo il torace perché sappiamo che la respirazione alta per noi cantanti è negativa quindi mobilizziamo la gabbia torace e va con l'esercizio che andrà a farvi vedere la Chiara Ecco, vedete Chiara che espira chiudendo bene il torace poi senza ispirare apre semplicemente il torace e lo riporta morbido Ecco qua, l'esercizio di mobilizzazione del torace quindi è fatto